Ciao a tutti, ben ritrovati, innanzitutto sono qui con mio cugino Luca, volevo ringraziarvi, anzi vi ringraziamo perché abbiamo fatto un gennaio veramente strepitoso, grazie a tutti i nostri clienti, clienti che abbiamo conosciuto in televisione e devo dire che grazie a televisione abbiamo conosciuto tutta gente veramente eccezionale e che salutiamo. Questo è un GMT Pepsi, vi ricordiamo che si vocifra che i Pepsi, già non li stanno più consegnando, dicono che uscirà di produzione questo Pepsi in ceramica, quindi attenzione che i prezzi sono già saliti ma se sarà definitivo, adesso ad aprire ci sarà la fiera dell'altro orologeria e lì si saprà cosa succederà di questi orologi, quindi comprateli finché li trovate perché è arrivato, vedi che arrivano, basta dirlo, basta chiedere. Sprite, bellissimo il famoso Mancino, primo orologio prodotto da Casaroles comunque per Mancini, bellissimo, abbiamo in arrivo anche un Giubilea, quindi bracciale ovesto, bracciale Giubilea, come gli esplorano uno, eccoli qua, bellissimo, 36 mm, ma venite a trovarci che vi diciamo i prezzi, vi accontentiamo sicuramente, via Marconi 23 Castellanza, vi aspettiamo palazzina storica, mettete che non rimarrete assolutamente delusi nel reparto borse, gioielli e orologi. E poi abbiamo tutto personale qualificato, qua in casa abbiamo l'incassatore, l'incassatore di pietra che abbiamo qua fisso, voi avete la pietra da un carato, due carati, tre carati, giustamente dite ma non mi fido a lasciarla, non è un problema, scegliete la montatura, vi facciamo la montatura, ora, quando la montatura è pronta, vi telefoniamo, venite qua, fissate un appuntamento, il nostro incassatore ve lo incassa davanti ai vostri occhi e la nostra pulitrice, rodiatrice ve lo rodia, ve lo pulisce, voi uscite con l'anello, pagate, andate, il vostro anello è nessuno può averlo toccato, cambiato, quindi siete veramente tutelati in tutto per tutto. Avete un gioiello, volete fare una saldatura, provate. San Valentino ha delle opportunità per la coppia, diciamo così, visto che giustamente San Valentino è per i due fidanzati, qui vediamo una coppia di Vacheron Constantin Fidias, da uomo automatico in condizioni stratosferiche, perché questi orologi presumibilmente sono stati mezzi veramente soltanto nel fine settimana o per occasioni importanti, ma sono ancora nelle condizioni pari al nuovo, la coppia la vendiamo, se uno vuole comprarli entrambi, a 18 mila euro, o nello specifico 6 mila euro quello modello donna al quarzo e 12 mila euro il modello da uomo automatico. Sì, sono tutti full set, tra l'altro un piccolo aneddoto, questi li ho venduti io personalmente nel 1990, cioè sul nostro team della giocheria Veneruz perché comunque eravamo concessionari di Vacheron, il motivo personalmente è questa coppia che poi di oggi ci sono tornati, come vedete in condizioni perfette, quindi scatola, garanzia, 18 mila euro, un prezzo veramente ridicolo per questi due orologi, perché se andate a vedere adesso i cataloghi, i listini di Vacheron, un pezzo così ci vuole un 70 mila euro, ce li vuole comprare il suo pari, diciamo l'overseas nuovo, e quindi sono veramente a cifre comprate due orologi d'oro di Vacheron a prezzo di un bel rollo d'acciaio, diciamo, quindi venite a provare che poi sono al posto, sono stupendi, che hanno una linea incredibile, elegantissima, sono molto piatti, scivono sotto il posizione della camicia, anche questo da uomo è piattissimo e sono di un'eleganza, avete dovuto avere qualcosa di alternativo, cioè io personalmente piuttosto che un rollo d'acciaio normalissimo, io con 12 mila euro mi metto un Vacheron che è una cosa di una bellezza veramente da pulsare infinita, veramente stupendo. Per rimanere sul, diciamo, su marche primarie, forse dal numero uno, Patek Philippe, o anche qui una coppia di Patek Ellipse, sia nel formato da uomo, anche in questo caso movimento automatico, ossia da donna con quadranti nonice al quarzo, anche in questo caso, manuale al quarzo, in questo caso sono orologi tenuti perfettamente anche questi, questi hanno la scatola originale ed eventualmente possiamo fare un stato di registro, per avere un stato Patek, infatti, proponiamo a 10.500 euro il modello da uomo e a 7.500 euro il modello da donna, credo che veramente questi prezzi qua, per l'eleganza degli orologi, siano veramente dei prezzi eccezionali, perché ti metti al posto un lingotto d'oro, soltanto il peso dell'oro forse, eguaglia del valore che proponiamo, e ti compri una marca, la prima marca forse al mondo di orologeria, Patek Philippe. Poi andiamo avanti con, questo è un 39 mm di Iodemar Piguet, in Oro Rosé, Quanta Argentè, questo è scatola e strato di archivio, lo proponiamo a 32.000 euro, che è un prezzo veramente inesistente, la sua deployante, ma non bello di più, venite a provarlo, che siamo molto sotto il listino di un nuovo cronolfo di Iodemar. Comunque di Iodemar abbiamo diverse cose, questo è il 41 mm scatola e garanzia, quadrante nero, centrone originali in coccodrillo, appunto come dicevo Fussette, e siamo intorno ai 48 mili euro, sotto il listino sempre di Iodemar. Poi abbiamo delle cose particolari, per chi ama, questo è un giraperego, in Oro Rosé, quadrante blu bellissimo, scatola e garanzia, 24 mili euro in Oro Massiccio, anche lui con la sua deployante, ripeto, poi arrivano, vengono, arrivano, questo è un offshore, loggio da 22.000 euro, loggio che di listino, ma costa veramente una cifra impressionante. Vai Luca. Torniamo alla signora, Patek Philippe, anche in questo caso, marca numero uno, modello Aquanaut, diciamo Lady, chiamiamolo così, con diamanti sulla ghiera, super spettacolare, ad un prezzo che rispetto allo scorso anno, secondo me, è veramente strainteressante, di 40.000 euro, è un modello del 2017. Tanto questo è un quadrante raro, perché il nero e bianco si trova più facilmente, questo colore grigio tortora è veramente difficile da trovare. nero e bianco si chiama luce, è un Aquanaut bellissimo. Audemars Piguet, sempre per rimanere tra le primarie marche, Audemars Piguet 33 mm, sempre modello direi Lady, una volta queste misure qua venivano state anche dagli uomini, adesso è un pochino più difficile. 33 mm, scatole di stato di registro, proponiamo a 23.000 euro, un 2003, molto molto bello, anche questo con il bracciale molto saldo, quindi tenuto, indossato veramente poco. Facciamo vedere a questo punto visto da donna il Frozen. Il Frozen che è super, super se vuoi. Questo è un ogine oro bianco, con questo lavoro è particolare, effetto ghiaccio, ecco perché lo chiamano così, è un 37 mm, quindi uomo-donna, dipende, un uomo col posto piccolo è super bello, super elegante, è una donna, un quel 37 mm, ma le donne comprono questi oggetti qua. È nuovo ma indossato, evidente che un'edizione limitata, quindi è fuori produzione e siamo al primo prezzo al mondo, cercate dove volete, siamo a 69.000 euro, ma se viete qua poi vedete che io e Luca vi accontentiamo, vi facciamo dei prezzi veramente straordinari, la lavorazione è bellissima, è una cosa molto molto rara da trovare. Sia sulla ghiera che sul bracciale. È totalmente in oro bianco massiccio. In oro bianco, anche questo, facciamo vedere ancora una volta, movimento a vista, non facile da inquadrare, metto in difficoltà i nostri amici. Eccolo qua. E poi stando sulle grandi marche abbiamo un orologio stupendo per chi viaggia e anche per chi non viaggia, comunque, questo è un orologio praticamente con tutti i fuso orari del mondo. È veramente stupendo, un Vacheron in acciaio, nuovo ma indossato, con ancora le plastichette sulla chiusura. Monta anche i cinturini, quelli dentro, sono direttamente dentro una scatola in caociù. È un orologio che, insomma, vale molto più quello che sto chiedendo, ma è un orologio che io vi chiedo intorno ai 30.000 euro e prendete un orologio subacchio, anche questo dovete provarlo perché è veramente, veramente stupendo. Tutto pellicolato ancora qui. Tutto pellicolato. sempre, per tornare all'eleganza femminile, un Patek Philippe 24, anche questo con diamanti sulla cassa, diamanti factory ovviamente non posizionati successivamente, ma incassati direttamente da Patek Philippe. Lo stiamo proponendo a 22.000 euro, un 2.004. Tenete presente che questo è in oro bianco. Comprate un acciaio al prezzo dell'oro bianco. Noi vi diamo un orologio completamente d'oro bianco. Poi, per gli amanti di orologi iconici, dei presidenti di tutto il mondo, dei 36 mm, questo è full set, completamente pellicolato e abbiamo un prezzo veramente ottimo, siamo a 23.000 euro. Questo full set, con questo quadrante, con questa tramalino, che ha proprio l'effetto del tessuto, del lino, e questo invece in oro bianco, volante blu, bracciale oyster, veramente tutte e due con la chiusura oyster, ma a scomparsa. Eccola qua, bellissimi. Com'è adesso il momento, insomma, di comprare di Yacht Master, che è un orologio che non producono più, tra l'altro in questa variante, con il quadrante e la ghiera in platino, non più, loggio che pagate intorno ai 10.000 euro, scatola garanzia, molto sotto il listino, oppure come dicevo prima, quadranti speciali, madre per la taitiana nera, scatole garanzia Yacht Master, qui venite, che il prezzo ve lo faccio così al volo, però vedete che un orologio che avrà un successo nei futuri, nei prossimi anni, perché i quadranti con le pietre, ne abbiamo anche un uguale madre per la bianca rubini, veramente bellissimo, venite a provarlo, che lo pagate meno di un orologio nuovo, ma avete un orologio iconico al posto, che è completamente fuori produzione. Sempre per stare sul tema, non c'è più, quindi orologi che sono usciti di produzione definitivamente, quantomeno per un po' di anni, poi se Rolex li riproporrà lo vedremo, Rolex Milgauss, in le due varianti, sempre entrambe col quadrante nero, uno con il vetro verde, uno con il vetro, uno con il vetro verde, scusate, e uno con il vetro trasparente, diciamo che qui siamo, questo è un 2019 che proponiamo a 10.500 euro, mentre questo è un 2012, lo stiamo proponendo a 9.700 euro. Ringraziamo lo staff della Rosi come sempre, Rosi che è qui, prima o poi ti faccio un video, Rosi, mentre mi riprende quel cronometro e mi fa impazzire, e ringraziamo tutti i nostri clienti, tutto il nostro staff dell'Avveno Gioielli e Orologi.